Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Nessun decesso oggi in Abruzzo a causa del Covid, mentre resta molto alto il numero dei contagiati con 3.275 nuovi casi positivi registrati oggi in regione, con un aumento del numero di ricoveri in ospedale. Ci sono inoltre 1.371 pazienti in più guariti dal Covid. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono così complessivamente 54.459, 1.903 in più rispetto a ieri. Di questi 259 pazienti, più 7 nelle ultime 24 ore, sono ricoverati in ospedale e in area medica, 4 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti inoltre 1.679 tamponi molecolari e 10.210 test antigenici, con il tasso di positività ancora molto alto al 27,54%. Dei casi positivi di oggi, 513 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.148 in provincia di Chieti, che è la più colpita, 719 in provincia di Pescara e 684 in provincia di Teramo.